Fede, ha visto la Silvia e ha portato le sue amiche nel reparto da bambino? C'è tante cose, ma non sanno ancora che... Nel nuovo reparto da donna, sconto 20%, mesi d'aprile, lancio, lancio nuovo reparto da donna, sconto 20%, nel nuovo reparto da donna, solo nel mese d'aprile, al bottegone della calzatura. Vi aspettiamo numerosi, sconto 20%, nuovo reparto da donna.